E' bella ragazzi, e' bella ragazzi Vedete questa seconda parte di Glovo Blast Kirby Oggi ragazzi faremo tutti i livelli X Invece ragazzi ho già fatto, ho scaccato un attimo roba di roba E facessimo insieme Ok dovete morire Vai così Andiamo avanti Mi sono informato che i livelli X di questo gioco E' un po' come scegliere un po' di più di quelli Insomma dei livelli non dai Ok E' finito anche il primo livello No Qua livello non dai Yes Andiamo nel secondo livello Ready Start Simbolo ragazzi Questa voce per un po' di tempo Perchè sto aggisciando tutto quanto di seguito? BASTA! Santissimo! Adesso lo siamo un po' figlio E' un po' figlio E' un po' figlio Come si chiama? Siamo in finito Saluta E' bravo Non è perché sono già ammazzato E' un po' figlio Vabbè Per la carta Per la carta Per l'altra C'è un po' in alto Per il secondo E' un po' figlio E' un po' figlio E' un po' figlio E' un po' figlio Andiamo sul terzo livello Yes! BASTA! CANTOLE THE FINAL CANDAL No No Tu non mi fiammerai ma io tante cose non mi sa che sto Kirby salvento io allora se volete che portate qualche muro gioco in più dalla saga Kirby così io me li porto così che voi potete giocare grandissimo memoratore ah ah non mi permette niente si senti tutti quanti i bambini ah 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 e vai ok ci siamo adesso si va all'ultimo livello yes il boss ah 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 poi e a chi è il boss di oggi ah dai ah cosa qua è log loss revenger la cosa proprio è proprio resistente chissà adesso prendi a 누구 blocchi va bene ho capito che non ti puoi far prendere tanto sei morto e tanto abbiamo vinto noi facilissimo come non vero è una fatta di tolta e dai anche questa parte si conclude qui e noi ci vediamo nel prossimo rio ciao bye bye